Ciao ragazzi, un applauso all'Italia, un applauso all'Italia, bravi ragazzi, usciamo purtroppo dall'Europeo con una sconfitta dai calzi di rigore, purtroppo stasera ci avevo veramente creduto che potevamo battere la Germania perché ci siamo comportati bene, abbiamo fatto quello che dovevamo fare e purtroppo non meritavamo di uscire, secondo me non meritavamo di uscire e diciamo che facendo un'analisi obiettiva e completa della partita dobbiamo assolutamente dire che secondo me la Germania nel primo tempo non aveva fatto granché oltre al possesso palla, aveva fatto sì col Cimai Stiger ma con un palese fallo su De Sciglio e poi niente, l'Italia ha avuto quell'occasione clamorosa dove Giaccherina ha stoppato la palla, l'ha messa in mezzo, tutti hanno risciato, poi l'ha tirato Sturaro e purtroppo Boateng ha fatto un salvataggio pazzesco e lì infatti lì c'è stato il mio rammarico perché ho detto cazzo questa è un'occasione d'oro, purtroppo ci ha detto male e tutto qui, poi niente, nel secondo tempo non è che abbiamo giocato male, non abbiamo giocato male per nulla, abbiamo concesso alla Germania quello che dovevamo concedere e purtroppo loro sono andati in vantaggio secondo me con molto culo perché il cross che hanno fatto è stato nettamente deviato da Bonucci, diciamo smorzato da Bonucci e aggiustato per Ozil che ha anticipato Barzagli mi sembra, un gol secondo me molto fortunoso per la Germania e questo fa capire anche a volte purtroppo quanto è crudele la storia e dopo quando siamo andati sotto su 1-0 per 5 minuti obiettivamente la Germania aveva il controllo della partita e sembrava che l'Italia non potesse più reagire, poi invece abbiamo reagito da una rimessa laterale diciamo che abbiamo conquistato un calcio d'angolo, ci siamo dati un pochino più da fare, abbiamo conquistato un pochino più di campo e ci siamo rimessi in gioco e abbiamo conquistato un calcio di rigore su un colpo di testa di Chiellini dove Boateng aveva le mani altissime così, il rigore è palese, io in diretta non me ne ero accorto, mi sembra la strano ma io in diretta non me ne ero accorto però ero convento che fosse rigore perché questi giocatori dell'Italia che facevano mano 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 ma convintissime al mille per mille quindi poi ho visto l'arbitro che aveva dato subito il rigore scusate e quindi sì ero convento, è andato dal dischetto Bonucci che ha tirato il rigore molto bene e quindi abbiamo pareggiato e in quel momento sinceramente ci avevo anche creduto che potevamo andarla vincere, poi purtroppo i supplementari non siamo riusciti a fare gol e la Germania ci ha provato un pochino più di noi ma senza creare chissà che cosa e poi niente sul 1-0 per loro abbiamo avuto anche un'occasione con Pellè che non ha giocato secondo me molto bene, cross dalla sinistra di De Sciglio, raso terra e Pellè al volo e non ha giocato non ha giocato molto bene secondo me Pellè ma neanche De era fatto molto sinceramente e quindi poi a calci di rigore loro ne hanno sbagliati tre, noi abbiamo sbagliato con Bonucci, Darmian, Zaza e Pellè e l'errore più grave secondo me di Darmian me l'aspettavo che sbagliava e anche di Bonucci perché quando un giocatore tira rigore una volta e segna poi ti cala la tensione e quando lo devi ribattere e ti dicono che lo devi ribattere ti risale la tensione però non sei lucido quindi ci può stare che Bonucci abbia sbagliato, non ci può stare che ha sbagliato Pellè io questo non lo posso accettare perché Pellè ha fatto il coglione, gli ha detto ti faccio il cucchiaio e poi ha tirato una cacata pazzesca, questo non doveva succedere assolutamente Zaza e secondo me l'unico errore di Conte è stato proprio questo mettere un giocatore freddo senza fargli toccare neanche un pallone praticamente perché non ha toccato neanche un pallone che l'ha messo praticamente alla fine e lo mettere subito nella meschia e tirare il calcio di rigore da freddo è normale che Zaza sbaglia secondo me, secondo me è normale che Zaza abbia sbagliato ha fatto una rincorsa secondo me che non doveva fare però ci sta che sbaglia perché Zaza era troppo freddo per battere un calcio di rigore all'inizio anch'io avevo pensato che era meglio fare entrare Zaza però dopo ci ho ripensato subito e ho detto Zaza secondo me può sbagliare perché è freddo perché è freddo ragazzi, se un giocatore è freddo che non comincia ad avere il contatto con la palla non comincia ad entrare sulla partita, lo mette subito nella meschia freddo battere il rigore e poi è sbaglia è normale che sbaglia è normale che sbaglia poi l'ultimo rigore, purtroppo l'ultimo rigore secondo me Gigi poteva fare un pochino meglio secondo me Gigi poteva fare un pochino meglio comunque Buffon ha fatto solo 1 a 0 per loro aveva fatto un miracolo praticamente su Chiellini che Chiellini aveva tirato il pallone e ha fatto un miracolo e però bisogna dirgli le cose come stanno Buffon sull'ultimo rigore a mio avviso per come è Buffon che è un campione, un gigante del calcio e ovviamente della Juve uno come lui però secondo me lo doveva parare il rigore lo doveva parare è andato alto è andato alto, si è abbassato troppo tardi però lì cazzo con il braccio gli dai una spenta un po' più avanti e lì secondo me ha sbagliato però ha fatto un miracolo su 1 a 0 per loro che cazzo gli dici Conte secondo me stasera Conte è stato un bravo allenatore assolutamente senza discussioni ha portato questa nazionale ai quarti di finale abbiamo giocato delle buonissime partite e Conte ha contato l'80 per cento 85 per cento però stasera secondo me ha sbagliato ha sbagliato perché supplementari doveva cambiare doveva cambiare subito perché Pelle e Der si vedeva cazzo che non ce la facevano più veramente andava a noierlo andava a pressare Sturaro Sturaro ha fatto una grandissima partita però cioè si vedeva ragazzi che non ce la facevano più che non ce la facevano più Pelle e Der e quindi doveva cambiare di prima prima abbiamo giocato praticamente senza attaccanti Pelle prendeva la pala poi la passava e la maggior parte delle volte sbagliava e Der uguale e doveva cambiare di prima secondo me ha sbagliato Conte nella gestione dei cambi secondo me stasera ha sbagliato nulla da recriminare perché anche Conte è stato molto bravo in questo europeo molto bravo io ci credevo sinceramente che ce la potevamo fare ci credevo questa sera ci credevo perché soprattutto dopo l'1 a 1 anche quando siamo andati i rigori quando ho visto che loro l'hanno sbagliati io ci credevo abbiamo buttato via l'occasione di vencerla di vencere i rigori noi e purtroppo Noiar i rigori li para ragazzi c'è un cazzo da dire Noiar li para Buffon ne ha parato ne ha parato uno ne ha parato uno però cazzo due o tre volte era andato sulla posizione giusta ma gli erano messi tutti perfettamente angolati e quindi cazzo non poteva farci nulla sull'ultimo secondo me poteva farci di più e quindi ragazzi niente 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 io avevo detto che bisognava puntare su Zaza in questo europeo secondo me era meglio puntare su Zaza perché poteva fare buone cose stasera ha sbagliato il rigore e però non è stato messo in condizione di tirare un rigore da non era non era entrato in contatto con la partita era troppo freddo Zaza per metterlo subito lì sulla mischia di rigori secondo me e niente ragazzi e purtroppo siamo usciti io spero che i tedeschi vadano fuori perché sinceramente sono antipatici quindi ragazzi questo è tutto e ci rivediamo alla prossima ciao ragazzi zero forza io ciao